Noi abbiamo un territorio, quello della Val di Chiana, Aretina, Essenese e direi anche quello della Val Tiberina che chiede acqua, che ha bisogno di acqua. E poi abbiamo dall'altra parte la diga di Montedoglio che anzi proprio in quest'anno raggiunge il suo massimo capacità di invaso. Abbiamo la rete di distribuazione primaria ma mancano i distretti, mancano i distretti irrigui. La diga di Montedoglio con i suoi 140 milioni di metri cubi di acqua rappresenta l'invaso più importante dell'Italia centrale, eppure la sua acqua non arriva alle coltivazioni del territorio. Ormai da anni infatti mancano le reti per consegnare le risorse alle aziende agricole che restano così all'asciutto e a causa siccità fanno fatica a continuare a produrre e a rimanere sul mercato. Una problematica illustrata dal Consorzio di Bonifica alla senatrice Simona Petrucci. Oggi abbiamo nel dettaglio parlato insieme alla senatrice per capire quali sono le possibilità per questo ente per riuscire a fare le progettazioni ma anche per riuscire a farsene finanziare per poter realizzare questi interventi. Oggi il problema principale per i nostri territori è diventata la risorsa, una risorsa che abbiamo, che il territorio aretino ha, ma che purtroppo non riesce a sfruttare per la mancanza di condotte e di infrastrutture. Io qui sono la rappresentante, sono il senatore del territorio aretino e mi farò carico assolutamente delle istanze che oggi mi sono state presentate e cercherò di portarle nelle sedi opportune affinché abbiano finalmente una esecutività.